Dimmi, cos'è la salute per te? Da quando ho un figlio, la mia idea di salute è cambiata. Per me è connettere il mio corpo e la mia mente. Avere qualcuno al mio fianco. Solo sapere che va tutto bene. Con 95 milioni di clienti assicurati in tutto il mondo, ogni singola storia di salute ci aiuta a capire ciò che conta davvero. Tu. Grazie.